Mentre calano i contagi si continua a morire di coronavirus. Il caso della giovane donna di sabato è due decessi a San Cataldo, di cui uno delle ultime 24 ore mettono dinanzi ancora la cruda realtà. Dietro i numeri le storie di persone che stanno combattendo la loro battaglia contro il nemico silenzioso, il SARS-CoV-2. E se a Caltanissetta si registrano quattro casi di pazienti positivi al SARS-CoV-2, da quanto diramato dell'ultimo bollettino ASP, il dato di insieme dell'intera provincia nissena parla di 68 pazienti positivi, tutti in isolamento domiciliare. Ancora costanti i contagi a Gela con 22 pazienti e Mazzarino con 13. Scendono invece i contagi a San Cataldo con 5 casi e a Niscemi con 3. Ricoverati in degenza ordinaria, due pazienti di Gela e uno di Caltanissetta dimessi dalla degenza, invece tre pazienti di Gela, due di Caltanissetta e uno di Montedoro. Trasferito dalla UOC anestesia e rianimazione in degenza ordinaria a un paziente di Caltanissetta. Sono 78 i guariti dell'intera provincia nell'ultimo bollettino, 35 pazienti di Caltanissetta, 25 di Mazzarino, 8 di San Cataldo, 7 di Somatino, 2 di Delia e uno di Gela.